Tossignano, 402esima festa della Polenta, martedì 13 febbraio 2024, ultimo giorno di carnevale. Alle 10 scambio di Polenta e maccheroni fra i comitati. Alle ore 12 distribuzione della Polenta riservata in modo esclusivo ai tossignanesi. Dalle 13 inizio distribuzione di Polenta ben condita con ragù di carni suine con formaggio grana a tutti i convenuti. Il Polenta Bus presterà servizio di trasporto gratuito da Borgo a Tossignano fin dalle prime ore del pomeriggio. Vi aspettiamo!